I crimini informatici hanno impegnato più che mai in questo 2023 la Polizia Postale delle Comunicazioni, in primo luogo nella lotta alla pedopornografia e i reati contro i minori, che se risultano in generale in diminuzione, preoccupano invece per i tentativi di addescamento, in particolare il sextortion, cioè il tentativo di estorcere immagini mentre i minori sono online. 28.265 gli spazi web analizzati, 2.700 dei quali il 10% inseriti in blacklist e oscurati, denunciate 1.224 persone. Il COSC Friuli Venezia Giulia ha trattato tre casi, indagando 10 persone, 9 per detenzione di materiale pedopornografico e 1 per divulgazione, eseguite 12 perquisizioni personali e informatiche che hanno portato al sequestro di 950 GB di materiale illecito. Tra le attività investigative di maggior rilievo, l'arresto di un cittadino di origine turca della Polizia Postale di Bolzano e l'operazione Viper, partita da Venezia e allargata a tutta Italia. Dopo il boom degli anni del Covid, l'analisi dei dati di cyberbullismo ha confermato invece la diminuzione dei casi dovuta alla normalizzazione delle abitudini dei ragazzi. Gli scenari di guerra hanno invece indotto la Polizia a potenziare i controlli sulle infrastrutture critiche del nostro paese, oggetto di attacchi hacker collegati in particolare alla guerra russa all'Ucraina. I numeri parlano però di una diminuzione nel numero degli attacchi come negli alert. La sezione cyberterrorismo ha invece operato per prevenire terrorismo sia di matrice islamista, sia di formazioni di estrema destra, estrema sinistra o separatiste, visionando 178.000 spazi web, 11.000 dei quali da parte del COX del Friuli Venezia Giulia, oscurando nel 2600. La Polizia Postale segnala la diffusione di contenuti propagandistici jihadisti che nel corso del tempo hanno subito anche un sensibile peggioramento qualitativo. Il settore delle frodi, soprattutto attraverso l'e-commerce, è invece sempre più florido, con 3.500 persone denunciate. Spopolano le truffe sul trading online, con 188 persone denunciate per un totale di 109 milioni di euro di profitti illeciti. Si tratta soprattutto di pishing, anche nelle varianti del cosiddetto vishing e smishing, e consumate in danno di persone fisiche, ma anche di aziende piccole e grandi. Il COX del Friuli Venezia Giulia ha trattato 169 casi per un totale frodato di 260.000 euro, 15 casi hanno riguardato attacchi informatici con software malevoli ai danni di grandi e medie imprese. Il grosso delle frodi riguarda false proposte di trading online, con 46 casi per una montata di più di un milione e mezzo di euro, che hanno portato all'arresto di 13 persone e alla denuncia di 61 cittadini, tutti albalesi. Ma ci sono state anche 9 truffe sentimentali. Sono stati invece 31 i casi di Codici Rosso.